Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, buon inizio settimana. Ci stiamo avvicinando al Natale piano piano e quindi fervono i preparativi e tutto quello che di solito si prepara con l'arrivo del Natale. Allora cominciamo però, intanto i Santi, siamo nella terza settimana di Avvento, i Santi qui abbiamo un Beato stamattina, il Beato Nicolò Stenone, però noi abbiamo anche la Beata Vergine Maria di Guadalupe che oggi si ricorda una grande importanza nella vita dei cattolici dell'America Latina. Tutti i messicani sono devoti alla Madonna di Guadalupe e abbiamo ricordato l'altro giorno anche il veggente Diego che era un contadino di 57 anni che mentre si recava in chiesa cominciò a incontrare questa bellissima ragazza che lo salutava e gli sorrideva. Il sole è sorto alle sette e mezza, tramonterà alle quattro e mezzo di oggi pomeriggio. Io vi do le notizie del tempo così come le sto vedendo insieme a voi sul touchscreen con la protezione civile delle marche, il suo sito internet che è accessibile chiaramente a tutti. Per oggi prevede cielo nuvoloso, soprattutto fino al pomeriggio, tardo pomeriggio, quando saranno possibili anche precipitazioni, carattere di rovescio, più insistenti sulla fascia costiera, vedete, nel settore della montano. Fenomeni che poi si esauriranno nel corso del tato pomeriggio. Il limite delle medicate inizialmente sarà attorno ai 1500 metri, in discesa fino a 1000 metri nel pomeriggio, quindi si abbassano anche le temperature, in particolare nei valori massimi, ecco perché arriva anche la neve, vedete, nell'entroterra e questo per effetto anche dei venti nord orientali di brezza tesa nell'interno, moderati lungo la costa con raffiche fino a vento fresco. Questa è la giornata invece di martedì 13 di dicembre, domani Santa Lucia tra l'altro, in diminuzione le minime, il giorno più corto che ci sia dovrebbe essere, almeno così dice il detto, in diminuzione, dicevo, le minime, stazionari e in livea aumento le temperature massime. Avremo tempo stabile insomma per tutto il resto della settimana. Non vorrei che queste informazioni meteo si fossero modificate nel corso, perché poi viene aggiornato, non credo di domenica, il sito della protezione, quindi non vorrei che fosse poco aggiornato, ma insomma vedremo, poi ce lo diremo domani. Allora, cominciamo dai giornali, il resto del carino, questa è la pagina di Pesaro del giornale, guardate, ladri scatenati, venti colpi, siamo a Pesaro, sono stati fatti razzie nei negozi, nei bar del centro storico, sono state ripulite anche le abitazioni, lo avevamo detto, lo abbiamo detto, purtroppo questa è statistica, prima di Natale è un disastro, è così, poi ci si ferma nel mese di gennaio, anche i ladri si riposano, le ferie, i ladri le prendono a gennaio, durante questo periodo lavorano tantissimo, anche di notte, tutti i giorni, di notte, in qualsiasi momento, guardate, questa è la fotonotizia, poi si parla di Marche Nord, la luce nel bunker, i cantieri sono finiti, quelli al San Salvatore, i lavori stanno andando verso la conclusione, tra poco lo vedremo, e poi si parla appunto a San Costanzo dell'albero di Natale che è stato danneggiato dai vandali, l'albero di Natale di San Costanzo, il sindaco denuncia, ma che divertimento è, e poi un bel vergognatevi a chiusura. Allora, vediamo subito questa cosa, questa notizia dei ladri, della razzia, queste sono le, una sequenza, quella che pubblica il giornale questa mattina, una sequenza di questo ladro che è in azione, no? Ormai quasi tutti hanno la possibilità di videoregistrare l'interno del negozio, i ladri se ne fregano, tanto lo sanno, e non è per loro un disturbo, si coprono, vedete, più o meno, anche se questo è coperto fino a un certo punto, quindi anche, voglio dire, così, senza tanti problemi, senza neanche tanto coprirsi, perché a parte il cappellino, addirittura il giornale ha dovuto squadrettare il volto, quindi significa che è riconoscibile, il volto è riconoscibile. Quindi una raffica di furti, come non si vedeva da tempo nel centro storico di Pesaro, nella zona mare e in prima periferia, tra fatti e tentati circa, sono una ventina, da sabato notte a domenica compresa, sono entrati da tutte le parti, nei bar, nelle pizzerie, nelle erboristerie, nei negozi di pasta, nel ristorante, insomma hanno fatto tutto, tutto quello che c'era a portata di mano e, come vedete, nella fotografia, nelle quattro fotografie c'è il sopraluogo che è avvenuto alle sei e un quarto di domenica mattina, quindi insomma è un orario in cui la gente già comincia anche a muoversi, poi prende un bastone, il ladro cerca di neutralizzare una delle telecamere, poi entra nel negozio e armato di torcia, che teneva tra i denti, una immagine che già abbiamo visto anche noi nel telegiornale, cerca di trovare la cassa da cui poi prenderà 1000 euro. Questa è la situazione dunque a Pesaro, poi anche qua sull'altra pagina, a tre, tutte le varie interviste con le fotografie dei locali che sono stati visitati, c'è chi si dice arrabbiatissimo o arrabbiatissime come le sorelle Pucci, Susanna e Arianna della caffetteria delle note di via Pedrotti, sono andati a prendersi pure i prosciutti, insomma c'è pure un prelievo eco solidale perché hanno preso dei spicciolini, dei soldi nella bottega dei prodotti del sud del mondo. Andiamo adesso invece sull'altra pagina, quella che riguarda i lavori, i lavori al San Salvatore di Pesaro. Guardate la fotografia, eccola qua, questi sono i lavori, il bunker nel cortile interno del San Salvatore di Pesaro realizzato per ospitare il laboratorio di analisi, si era ipotizzato il rischio di dover rompere il tetto, in realtà poi non è così, i varchi ci sono, adesso si accelera per questo laboratorio che sarà, vedete, sottoterra, San Salvatore, i lavori infiniti verso la conclusione evitata la rottura del bunker. Presto, dice uno dei responsabili, il collaudo per far entrare la strumentazione e quindi non ci saranno problemi. Esce alle 5 di mattina, è stato ritrovato in pigiama, è stato ritrovato questo novantenne, siamo a Cagli, a Smirra di Cagli, si era allontanato alle 5 del mattino forse per problemi di salute e poco dopo le 11 è stato ritrovato, non troppo distante, che vagava solo in pigiama lungo le strade che da Monte Peruzzo va appunto verso Cagli. Poi c'è questa moria di cefali al porto, l'inquinamento però non c'entra, è incredibile proliferazione di pesci, in tanti finiscono nelle eliche delle imbarcazioni e questa è la fotografia. Poi andiamo nell'entroterra, andiamo a Monte Maggiore al Metauro, il Vescovo detta l'agenda politica, l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni, dal turismo all'impresa, le 5 regole obiettivo di Trasartis. Da San Lorenzo in campo invece il corpo di Caldarigi sbalzato fuori dall'abitacolo, fuoristrada mortale, forse domani ci sarà il funerale di questo 47enne di San Lorenzo in campo che è morto sul colpo sabato sera, poco prima delle 20, in un fuoristrada con la sua Alfa 147 lungo l'arteria stradale che collega la frazione arceviese con il comune cesanense. Ieri mattina hanno fatto il riconoscimento ufficiale, c'è stato il riconoscimento da parte dei congiunti, comunque adesso bisognerà decidere quando fare il funerale, forse scrive il Carlino ci sarà nella giornata di domani. Apriamo il Corriere Adriatico, velocemente, narcotizzate derubate in casa, notte di razzie in centro storico, la donna vittima del furto dice come essere violentata. Ride in più di 10 esercizi. Qui c'è una notizia in più sul Corriere Adriatico, quella di appunto questa donna che è stata narcotizzata e derubata. Una mattina di paura, quella che ha passato la signora Sara sulla cinquantina d'anni che vive in via Monte Voso. Ok, la scorsa mattina i ladri le sono entrati in casa, penso che mi abbiano addormentata, racconta lei, perché sto male, ho mal di stomaco, ho dei conatti di vomito e anche mal di testa. Ieri sera stavo benissimo, faccio fatica a parlare e qui hanno rubato praticamente tutto. Notte dunque di razzie in centro storico a Pesaro, un ladro solitario in azione come hanno evidenziato le telecamere con un piede di porco ha assaltato almeno una decina di negozi. Poi il calcio a centro pagina con il Fano che affonda, adesso l'allenatore Cusatis rischia la panchina, la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, Almancini vince Lumezzane per 2 a 0, la classifica dei Granata adesso è davvero, si fa sempre più preoccupante. Questo è il Corriere Adriatico della prima pagina. Poi andiamo invece sulle pagine interne e vediamo quella di Fano. Carnevale, rispunta il biglietto, un evento ben fatto va pagato. L'assessore Marchegiani d'accordo con l'ente carnevalesca, occasione di lavoro, il convegno alla Memo segnala le opportunità economiche della storica manifestazione ludica. speriamo, dico io, che sia la volta buona. Voi sapete, io non l'ho mai nascosto, sono a mio avviso del parere che occorra far pagare un biglietto al Carnevale di Fano perché il Carnevale di Fano è un Carnevale che deve reggersi da solo, è un Carnevale che ha tutte le carte in regola per essere venduto, essere un prodotto che può essere venduto. e quindi speriamo che questa volta sia la volta buona e quindi che si paghi finalmente un biglietto. Anche perché andando avanti così, di fatto al Carnevale pagano tutti, perché con il Comune che dà tutti quei soldi pagano tutti. Invece, diversamente, se si paga un biglietto, paga soltanto chi vuole andare al Carnevale. Gli altri soldi vengono spesi invece per la comunità. Quindi ben venga il biglietto, poi con tutti gli sconti, le cose, chiaramente per gli anziani, i disabili e tutto il resto. Ma questo è un altro discorso. L'aeroporto non ospita solo voli privati. Savelli replica l'opposizione segnalando scuola di volo, paracadutismo e ristorazione. Sapete tutti, pure le recenti dimissioni di Belli, insomma l'attuale difficoltà in cui vive l'aeroporto di Fano, difficoltà che però non debbono avvallare il disegno di chi rema contro la sua valorizzazione e sfrutta ogni occasione per tarparne le ali. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico, subito, sempre da Fano, non ignorate le persone creando false aspettative. Il monito del Vescovo ai sindaci, agli assessori, siamo a Montemaggior del Metauro, un contributo di analisi con i dati della crisi. La priorità è lottare contro la povertà, dice il Vescovo Trasarti che ha sottolineato che in un paese in cui il 7,6% della popolazione, circa 4,6 milioni di persone, vive in povertà assoluta, la prima questione da affrontare è assolutamente e sicuramente una maggiore e diversa ridistribuzione dei redditi tra i cittadini. Questa è la pagina 14 del Corriere Adriatico. Poi da Urbino, ora dovete salvare la ferrovia, il turismo può passare di qua, appello dei consiglieri dell'Associazione Valle Metauro alla vigilia dell'Assemblea regionale, recuperare la tratta Fano Urbino con i costi a carico del gestore è una reale opportunità. Ecco, è importante che però i costi siano a carico del gestore. Ad Ancona domani si esaminano due mozioni, c'è la possibilità di arrivare ad una svolta e vedremo. Ex-Cif, siamo sulle pagine di Pesaro e Provincia. Da Pesaro, ex-Cif pronto un esposto, l'opposizione chiede la demolizione e il recupero del fatiscente edificio di Sottomonte. Oggi in commissione si valuta invece il futuro del consorzio agrario in Calata, Caio Duilio. E anche qui, vedete, Pesaro ha ancora, noi l'abbiamo buttato giù da un po' di tempo, però Pesaro ha ancora questo capannone, questa struttura, non è un capannone, questa struttura degli anni 60 dove appunto c'era l'ex-Cif, dove c'era il Cif e adesso è lì in bella mostra che insomma bisognerebbe appunto buttarlo giù. Poi da Fossombrone, posti letto, la regione si deve trattare come Cagli. Il lungo degenza a Fossombrone, l'ex vice-sindaco Chiara Billi, chiede il restyling del padiglione. Narcotizzata e derubata in casa, notte da incubo, raffica di furti, la cronaca sempre dal Corriere Adriatico. La vittima come se mi avessero violentata, hanno preso i soldi, oro, anche il tablet. Poi i ladri con un raid sono andati in più di 10 negozi del centro storico. Anche qui, vedete, moria di pesci, moria di cefali al porto, prelevati campioni d'acqua, ritrovate decine di carcasse. Il biologo dice si analizzino i pesci perché possibili sversamenti fognari addirittura. Poi ancora sulla pagina, e poi chiudiamo, primo piano, ecco qua, si parla di consumo. Questo Natale che non decolla, un Natale che è ancora un po' fiacco, come verrebbe da dire. Anche a Pesaro la spesa resta ferma ai dati del 2015, si stringe la cerchia per i regali. Il budget però di spesa per fare questi regali è un budget contenuto. Dunque l'andamento dei consumi è pressoché piatto in questo fine d'anno. Il dato nazionale si riflette anche sull'andamento rilevato dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti della provincia pesarese. Nella tendenza che ci porta a questo Natale, resta invariata dunque in questo 2016 la spesa per i regali. Dunque la gente sta attenta adesso al portafoglio, i soldi sono sempre meno e dunque che si fa? Però speriamo magari nella corsa agli acquisti dell'ultimo minuto, magari acquisti un po' ragionati, un po' senza strafare. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa Occhio ai giornali è finita. Questo momento che passiamo insieme al mattino presto per leggere un po' i giornali. Vi auguro dunque una buona giornata. Noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. E vi ricordo che se avete segnalazioni da farci, noi le accettiamo e le riceviamo molto volentieri. Potete usare Whatsapp per esempio, l'applicazione è gratuita. Segnatevi questo numero, memorizzatelo nella vostra rubrica telefonica 338 4968 250. Scriveteci pure, mandateci fotografie, video, quello che volete. Noi poi facciamo le nostre verifiche e poi decideremo se metterlo in scaletto oppure no. Comunque le leggiamo tutte e le vediamo tutte. Per il resto vi ricordo che c'è anche la nostra applicazione che potete scaricare da Google Android, Google Play, oppure se avete un Apple, se avete un iPhone, potete andare sullo store e quindi scaricare questa applicazione che è gratuita. Lì avete tutte le notizie che noi passiamo, battiamo tutto il giorno. Ancora grazie per averci seguito e ci vediamo stasera. Ancora grazie per averci seguito e ci vediamo stasera.